Buongiorno a tutti, oggi è il 4 novembre 2019, sono qui in corso Primea di fronte al monumento dei caduti con Gianni. Ciao Gianni! Ciao Fabio, ciao a tutti! Allora cosa fanno stamattina qua? Qual è la commemorazione? È la commemorazione della vittoria della Prima Guerra Mondiale che è avvenuta nel 1918, qui c'è la banda musicale che suona, abbiamo tutte forze armate, infatti è la festa delle forze armate. Abbiamo polizia, carabinieri, finanza, abbiamo tutte le armi qui, tutte le forze armate, siamo in attesa che arrivino anche le autorità. Comunque se ti stai facendo caso vedi ben poca gente civile. Ecco, questo è una cosa che abbiamo notato prima. Come se la festa non fosse più più sentita dalla cittadinanza, diciamo pure è una festa molto importante. Va bene, chiudiamo questo primo video Gianni, ne rifacciamo per un altro più tardi, va bene? Ciao a tutti! Ciao Gianni! Ciao a tutti! Ciao a tutti!